Ragazzi, come si dice in questi casi? Buon appetito! Esatto! Io vado con di pistolina, tu vai di fucile a canna liscia. Tu sei brutto! Bella! Segato! Dove stava? Verso la nostra spawn! Eh, ha fatto tutto il giro, ragazzi. Mi è andata male. Sinistra? Sinistra. No! Vai, vai, l'ho quasi segato. No, avevo più colpi! Lo segavo, eh, lo segavo. Ce l'avevo con i miei dì. Oh, ma mocca a mammi, ti vengo a prendere, figlio di puttana! Mi sono ammazzato da solo? Mi sono ammazzato da solo. Di solo. Bella, bella! Tra te, poi ho giocato bene. Siamo tutti là dietro, figlio di puttana. Due! Bella! Mi stavo andando dietro! Con quest'arma, raga, non mi potete romper il cazzo. Ah, cazzotti adesso, eh. Eccolo subito a sinistra. Gli ha sparato nel culo. No, mi si è tolto l'audio. Mi si è tolto l'audio. Preso. Mi si era tolto l'audio per un attimo. Oh, oh, occhio, a sinistra, in fondo a sinistra. Bella! Questa l'ho vista, l'hai rallentata e l'hai presa in testa. Da dietro, a destra della mappa, a destra della mappa. Lo sento. Sono figlio di puttana, no? Pulita, pulita. Una vittoria troppo pulita, anche quasi brutta. Uh, abbiamo un utente PlayStation. No, vabbè. Level 82. Vabbè, dai, voi, se lo inculiamo dietro, facciamo male, sto figlio. Io ti riguardo ciccio su... Vabbè, ma questo io non so tutti ciccio. Questo mo me lo ingulo subito, subito. Bella sta mappa, questa è la prima mappa. Io gioco con una marcia in meno quando so che ci sono i nemici su da PlayStation. Ma no, non devi sottovalutare. Io, no, io, è così. Cioè... Il nemico è apportata. È apporcata, credo. Era fermo in base. Vabbè, dai. Quel lato sarà fermo in base. Ah, no, è sveglio, è sveglio quel figlio di puttana. Però muore. Dai, ma sto merda, oh, dai. Ti voleva fregare. Uh, bello, bello, cara di cecchino, vai. No, 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 non è cecchino questo. Come no? È l'MP7, qualsiasi mai è un cecchino. Però da quella distanza lo inculiamo. Sì, ma è come gioco i bambini alla terza alimentare qua. Andiamo a fare il base. Base rape. Base rape. Ah, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Oh, oh. Ok. Io non ci si segui, no. Ma è che io non sto uccidendo, allora. Come si fa? No, però sei sempre convinto. Ho fatto gli assist. Così impari? La prossima volta me lo dici, eh? Fatti serviti. Mi fatti tutti gli assist. Tutti, mi fatti, mi fatti anch'io. Eh, no, gli stavo a sparare io. Gli ho sparato tutto addosso. Mi stai a fregare i kill. Occhio. Dove? La solda. Una bocca a mamma, dai. Dov'è? Eh, sopra, sì, sopra a destra, bravo. Devo recuperarti le kill. Dai, ragazzi, cioè, una partita così, due minuti. Dai, ma ne facciamo un'altra. Dici. Ma almeno ci aprono il culo. Eh, qua è tostra, ragazzi. Uno. Yes. Bella. Bella. Stai in fondo a destra. Bella. Ci sei andata proprio pulita. Ma l'hai buttata tu la granata esca? Sì. Preso? Vai. No, occhio, tutte e due in fondo. Bella. Bella, bella. Ma grande sinergo, grande. Subito a destra, appena esco. Qui. No, ho ucciso, occhio. Bravo. Oh, no. Cazzo, da dietro. Stavano tutte e due, una a destra e una a sinistra. Quello l'avevo visto, l'altro no. Sì. No, ok, ma l'ho ucciso, però tu puoi farcela. Dove? Al centro. Occhio. Bella, bella. Ma mi ha tirato un cartone, non l'ho visto, non l'ho capito. Non lo so. Bella. Uno. Madonna la granata. Non ci sia la granata, te lo dico. Sì. Bella così. Ok, uno è morto. Sei fatto. Madonna, che tristezza, ragazzi. No, avete rientrato. E loro non sapevano più che pesci prendere. Comunque, belle partite, belle emozioni. Poco bilanciamento, però. O perdiamo in maniera schiacciante, o facciamo un culo a tarali. Ci vediamo alla prossima. Sì.